Ma effettivamente a cosa serve il Chuck e come si usa? Prima però ricorda di seguirmi, lasciare like e commentare. Chuck è un termine onomatopeico che serve ad indicare quella tavola, quell'oggetto, che viene utilizzato durante le riprese per catalogare le varie scene e soprattutto per sincronizzare in fase di montaggio le varie scene con i rispettivi audio. Ma come si usa il Chuck? Prod sta per produzione, quindi qui sopra verrà indicato il nome della produzione, quale può essere per esempio Netflix. Roll invece adesso viene lasciato sempre in bianco perché ormai è tutto digitale, qui venivano indicati i numeri dei rulli che venivano utilizzati. Scene e take sono invece i numeri delle scene e di quante volte quella scena viene girata. Ad esempio la scena 5 verrà girata 8 volte, quindi ci sarà scena 5 take 8. Qui invece si scriveranno il nome del regista e il numero della camera o il nome del cameraman. Qui ovviamente la data del giorno delle riprese. Queste informazioni invece sono opzionali e indicano se la scena viene girata di giorno, di notte, interno, esterno e così via. Tutte queste informazioni sono fondamentali in fase di montaggio. Questo è il motivo per il quale il Chuck viene inquadrato prima di chiamare l'azione della scena. Infatti la formuletta è motore partito, Chuck in campo, azione. In questo modo chi sarà al montaggio saprà quale clip deve prendere. Se il video ti è stato utile e ti interessano contenuti simili ricordati di seguirmi anche su Instagram.